Sono partito con quello più estivo, di vincere. Sono Francesco Palladino, ho 16 anni, vengo dalla Puglia, precisamente da San Giovanni Rotonto. Qui ho portato un cavallo che ho preso soltanto tre mesi fa, si chiama Flash Somara, ha 11 anni. Ho deciso di portare lui proprio per approfondire quella che è la mia conoscenza con lui. Divertiti. Come ogni persona che va a cavallo e decide di intraprendere una carriera sportiva, è chiaro che anche io abbia il sogno di aprirmi una scuderia per fronte mio, però anche l'impegno che sto dando scolastico sono sicuro che mi porterà anche altri frutti nel mondo del lavoro. Sono venuto qui anche per avere un confronto con gli altri ragazzi e con i tecnici. Ho apprezzato il fatto che siano stati molto chiari e che abbiano detto ciò che subito andava fatto. Mi è notato veramente tanto in questo. Al primo posto abbiamo Chella del Prete. Secondo me, un parere onesto, il primo posto è meritato. Al secondo posto ci sono io e se voglio vincere per forza farla fuori. Secondo me questo è un aspetto veramente bello di campus. Siccome riusciamo a avere sia un lavoro di squadra, una cooperazione tra tutti, ma anche una competizione. Questi sono magari due aspetti che andrebbero visti su due piani completamente diversi, ma invece che qui vengono messi sullo stesso piano e questa è una cosa che mi piace davvero tanto. Un ragazzo pieno di entusiasmo, di voglia di fare, mi piace l'atteggiamento. Ha un a cavallo sicuramente particolare, molto insanguato, nevrile, delicato nello stesso tempo. L'ha interpretato bene, un ragazzo giovane, mi sembra che ha delle belle qualità per cercare di voler imparare, di diventare un professionista, glielo auguro. Io parto in gara tutti i giorni sempre per vincere. E' chiaro che ci debbano essere dei giorni in cui si fanno percorsi di lavoro per i cavalli, però secondo me portare al termine un percorso di lavoro è una vittoria anche quella per il proprio cavallo. Per due anni che monta, devo dire la verità, è molto bravo, fa tanti risultati. Il cavallo con cui io l'ho seguito è un cavallo molto carino, ma anche molto sensibile, e quindi per l'esperienza che ha è impegnativo, però lui si difende alla grande, devo dire. Questo è un cavallo che gli insegna a montare secondo me, quindi è un bel cavallo, perché comunque è particolare, però ha tutta la volontà, il rispetto, la qualità. Veramente un bel binomio secondo me. A casa porto sicuramente un bagaglio culturale non indifferente dal punto di vista tecnico e un'ulteriore indipendenza. Sicuramente stare una settimana qui praticamente da solo mi è stata molto d'aiuto. Già da martedì abbiamo iniziato ad essere una vera e propria famiglia. Infatti mi sono trovato davvero bene con tutti e sono molto contento. Hai provato, hai avuto il coraggio di provare a cambiare qualcosa e secondo me i risultati sono stati ottimi. e quindi continuo su questa strada, non aver mai paura di fare dei cambiamenti, di provare cose nuove. Complimenti, davvero. Mi scorto di zanatico a me. Cosa che mi ha colpito di più è il fatto che grazie al campus siamo tutti riusciti a conciliare la competizione con lo spirito di squadra. E' per questo che possiamo parlare di una competizione sana, sanissima. E' davvero stata un'esperienza fantastica per me. Bravo, bravo. Sono arrivato secondo ex equo con Alessia e sono molto contento. Il primo posterà di Gabriele per pochi punti. Sono contento anche per lui. Questa è stata un'esperienza che mi ha formato anche a livello di gioco di squadra e non posso che essere contento per tutti. Sono celeste romani, ho 17 anni il mio cavallo si chiama Clue ha 14 anni e ha tanto cuore, quindi è brava. Grazie. Grazie. Grazie.